Luca, quinto risultato utile consecutivo, 13 punti nelle ultime cinque gare, il Frosino non ha trovato continuità. Sicuramente stiamo viaggiando sulle ali dell'entusiasmo, le vittorie aiutano a vincere, anche durante la settimana c'è un'armonia più bella, più serena, si lavora meglio, si lavora con più voglia e questi sono i risultati. Nelle prime gare di campionato si parlava di un Frosinone contratto che faceva fatica ad esprimere un buon gioco, oggi nonostante non sia stato espresso un ottimo gioco perché il Frosinone ci ha messo in difficoltà, abbiamo ottenuto un risultato importante. Qual è stata la chiave della partita? Secondo me la cosa più importante è stata la voglia di portare a casa i tre punti, la voglia di far bene in casa. Abbiamo messo tanta determinazione, tanta cattivaria agonistica e queste cose se le metti insieme con la squadra che hai spesso vai a vincere. Abbiamo visto che dopo la rete del pari Ciofani ci dava tutti quanti per cercare di riportare a casa i tre punti. Quanto è stata importante la condizione fisica negli ultimi venti minuti? Sicuramente la condizione fisica è quel valore aggiunto che ha questa squadra da sempre, ma più che la condizione fisica anche la condizione mentale, la voglia di portare a casa i tre punti, di ribaltare tutto quanto. Oggi abbiamo visto un Frosinone veramente all'altezza, con la voglia giusta, lo spirito giusto e questo ci ha regalato i tre punti. Hai fatto un altro gol pesante dopo quello di martedì sera, secondo gollo consecutivo, terzo stagionale. Luca Paganini ormai ha trovato la continuità giusta per fare bene anche questa stagione. Speriamo che va avanti il più possibile questa cosa. Comunque, a parte gli scherzi, sono contento per il risultato, poi il gol è la ciliegina sulla torta che rende tutto più bello. La prossima gara ci vede di fronte all'Avellino, un'altra partita delicata contro una squadra che non sta nelle condizioni ottime di classifica. Qual è secondo te la chiave per poter portare a casa punti anche dalla prossima trasferta? Secondo me la chiave è andare a Avellino con la voglia di fare tre punti, imporre il nostro gioco dall'inizio della partita, fargli capire comunque che il Frosinone è una squadra che lotta per le zone alte della classifica e non ce ne deve essere per nessuno. La voglia nostra di vincere deve essere superiore alla loro.